Con Papini squalificato, Marghi va a destra in difesa, Gautieri sulla corsia opposta c'è Scarpelli in porta dopo il turno infrasettimanale. Muscas, Mazzoli e Rontini in mediana per il 4-3-3 che vede regoli preferito a Gerardini. Sciopero della gradinata nel primo tempo dopo le diffide ricevute per il derby di campionato nel turno infrasettimanale. Dura moltissimo la fase di studio, si arriva a metà primo tempo per la nota che rinnova il tacuino. Punizione da sinistra di Doveri, di testa in corna sul fondo a centro aria Caciagli. Un minuto e Semprini sfugge sul filo del fuorigioco, Scarpelli è bravo a respingere il tiro cross quasi dal fondo. Minuto 42, altra palla ferma stavolta di Caciagli, nuova incornata e tuffo sulla propria sinistra per l'estremo Valdarnese che concede solo l'angolo. Sul corner schiaccia quindi Mazzanti, la palla sbatte sulla parte superiore della traversa, va sul fondo dopo il rimbalzo. Nel recupero però occasione per la Sangio, Mischia, Rasoterra, l'assist di Muscas, a centro aria Mencagli giunge alla deviazione con un istante di ritardo. In apertura di ripresa ecco il tifo organizzato prendere posto in entrambi i propri settori di competenza. Subito brega, non impatta al meglio la verticalizzazione in area azzurra. Ma ecco che Mazzotti crea schema per Di Santo che dalla linea di fondo inganna Bulgarelli utilizzando anche una deviazione pronto a raccogliere il cross. Palla sul palo e quindi in rete per il vantaggio. Poco dopo per un fallo di Lici su Regoli lanciato e punito solo con il giallo, le proteste di Cosaro costano al vice di Buso l'espulsore dalla panchina. Intanto Di Santo batte a portiere già arrezosi, la sfera coglie in pieno la traversa. La compagine pisana si riversa nella metà campo del Marzocco, traversione di Caciagli in corna ancora a lato Colombini. Tre quarti del match dalla lunga distanza c'è il tentativo di Semprini, sia pure in modo non certo perfetto Scarpelli respinge. È invece strepitoso il portiere locale poco dopo a negare il pari a Brega pronto a risolvere la mischia sotto misura. Nonostante cinque minuti di recupero non accade più niente. San Giovannese 1, Ponzacco 0, Buon Natale Marzocco. San Giovanni